eccoci e bentornati sul mio canale state vedendo ragazzi la prima immagine l'unica immagine di nazi zombies del nuovo call of duty world war 2 ma pochi minuti fa il profilo twitter di call of duty ha pubblicato una nuovissima immagine uno zombie veramente inquietante con denti soltanto nella parte alta della bocca tantissimo sangue e in basso 20 luglio quindi confermato che la nuova modalità nazi zombies di call of duty world war 2 sarà svelato durante il comic con di san diego esattamente il 20 di luglio quindi il reveal trailer di nazi zombies ci sarà esattamente quel giorno durante questo importante evento videoludico e non solo fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate e noi ci vediamo con tanti nuovi video